Sono con Maurizio Polverini che già sta male fisicamente, io sono tristissimo per le figure dell'Arezzo e della Fiorentina, io non so neanche di che parlare, la mia domanda è questa, ma possiamo noi da Arezzo, 100.000 abitanti abituati ai fasti della serie B di una volta, andare a perdere a San Sepolcro, dove io tra l'altro vado in radio tutti i giorni e vengo preso per il culo a tutto Borrello. No, penso che la risposta l'hai già data, abbiamo perso 2-0 e abbiamo perso anche abbastanza bene, è vero tutto quello che si è sentito dire in questi giorni, che il campo peso sicuramente ha penalizzato la squadra tecnicamente più vaida che l'Arezzo, che al primo tiro in ponte hanno fatto rete, ma è anche vero che l'Arezzo sinceramente in questo momento non mi sembra quella squadra a mazza campionato che tutti descrivono. Anche l'altra domenica, finita la partita mi fermai allo stadio, perché io vado alla partita anche per parlare con i miei amici, chiaramente per fare due chiacchiere. Allo stadio ho pensato andassi alla partita per il mezzo ai campi. Vabbè, ce la farò stamattina a finire. Oggi mi sono promesso di finire l'intervista parlando di calcio, oltre a vedere la partita mi diventa anche fare due chiacchiere. E dopo il 4-0 alcuni mi hanno accusato, ma sei sempre il solito critico, non ti va bene neanche il 4-0. Io cerco, con la mia piccola esperienza, di andare al di là del risultato e di guardare la partita. Anche in casa con l'Annese, l'Arezzo ha vinto, ha vinto 4-0, l'Annese è rimasta in 10 dopo 15 minuti, però mi è sembrata una squadra calfora dipendente, cioè una squadra che non avesse un grande gioco, ma che giocasse e si basasse sulle individualità che sono di grande spessore. E questo ha dimostrato anche domenica, ha preso un go evitabile perché Bellaviglia ha sbagliato, aveva 80 minuti di tempo per cercare di pareggiare e è vero, sì, qualche occasione c'è stata, ma sui calci da fermo, punizione, c'è l'Arezzo, non mi sembra effettivamente che ancora abbia un gioco di squadra. E questo chiaramente è il lavoro che doveva fare il mister Mezzanotti. È vero che è presto, ma secondo me comincia anche a suonare qualche campanello d'allarme. Vedo me che la Pistoiese era riuscita, vi dico, è riuscita a pareggiare a Nardi, quindi ha fatto un risultato brutto anche la Pistoiese, perché un pareggio fuori casa con la Narnese per la Pistoiese secondo me è un passo falso e l'Arezzo poteva approfittare. Invece ora siamo in questo limbo e insomma è difficile anche quest'anno. Io spero che il mister riesca a trovare tutti quei accorgimenti necessari, soprattutto io penso in mezzo al campo, perché Idromela secondo me è un giocatore che può far bene e far comodo l'Arezzo, soprattutto è anche un fuoricota e soprattutto anche due esterni difensivi, Carminucci e Bellaviglia non è che mi convincono tanto. Scusa, ma Idromela è un prodotto biologico? Idromela è un giocatore dell'Arezzo del 94, un centrocampista che hanno fatto anche sette retti e che mi sembra quest'anno poco considerato. Comunque speriamo bene, ma se la squadra rimane in queste partite, ho paura, io non voglio fare il gufo, come dice, però insomma anche quest'anno rischiamo di rimanere in essere lì. Bisogna dare veramente una svegliata, ma non tanto come risultato, perché sicuramente penso che con il Deruta in casa noi vinceremo Domega, perché se non vinciamo con il Deruta possiamo smettere, ma bisogna dare continuità, ma non solo di risultati, ma anche di prestazioni, dove l'Arezzo dimostra di avere un gioco suo, che finora ancora non l'ho visto. Io invece che sono andato ieri l'altra sera a vedere Fiorentina Parma e ho goduto come una biscia della bellezza dei servizi dello Skybox, dello stadio di Firenze, sono, no, sono, ero ospite, ero ospite, ero ospite. Che poi ti scusami, vai a vedere la Fiorentina e non ci capisci niente, Ricaccio. Infatti guarda, ti dico la verità, ho mangiato delle aragoste e dei gamberoni di crudità, di pesce, con champagne, con un servizio di Lodovichi al quale faccio i complimenti, che è stato favoloso. A te vai a mangiare. Io ho promesso che salutavo Letizia, questa hostess estremamente carina. Siamo decaduti. Cioè lui va allo stadio e parla dell'Aragoste e di la f***a così. Ecco, va bene, ma quello è normale, ma te c'è per quello forse allora. Non so perché, cioè te ci vai a tastare quadrato. Io vado a vedere la partita. No, se ci vado per Neto, che gli hanno fatto un cross e è andato a vedere chi segnava per ardillo su spogliatoi. Alla fine, forse sta con me qualcosa ne caccio, aspetta, ci capisci. Perché è vero, perché Neto, sinceramente, se la Fiorentina vuol cercare di vincere qualcosa, nulla voglia Neto, ma ci vuole un portiere di... Si è appasciato un Fiorentino all'altro Skybox e ha detto Montella, mettici in citafono. Penso a che portiere. No, purtroppo è un ragazzo giovane, però non ha l'esperienza. Se vuoi cercare... Ragazzo giovane, non è mica che fa l'idraulico e l'hanno chiamato un porta alla sera. E il giovane lo fa il portiere. Ma l'hai visto i portieri, le altre squadre che sono davanti a Fiorentina che hanno in porta? A parte la Juve che ha Buffon, che anche lui è un po' troppo vecchio, è già quasi un po' arrivato per altre cose. Ma te guarda la Roma, guarda il Napoli, guarda l'Inter, guarda il Mila, c'erano tutti portieri importanti, portieri di esperienza. Ma questo non lo hanno preso al continente. Ma questo è un ragazzo giovane che chiaramente si deve fare le ossa, ma si deve chiaramente giocare titolare in una squadra che ha delle ambizioni sia per la Champions che chiaramente per i posti classi. Giulio Cesare, da retta, la Fiorentina, Giulio Cesare, oppure in alternativa Numa Pompiglio. Conso Pilato, lo sapevo, lo sapevo. Posso parlare dell'eccellenza? Eh, no, 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 vado via. Me l'hanno chiesto, parlo secondo dell'eccellenza, meno male che c'è la Rita che è lui che ha perso la sera in questo gruppo. L'Anghiari, sto qua dietro, L'Anghiari è secondo in classifica perché questo lui fa le battute ma frequenta Anghiari neanche sa queste cose. Nel senso che Marmorini ha vinto domenica 6-0 a scuola di Marmorini con la Bucinese. Ha due punti dal Figline che è in testa classifica a punteggio pieno e domenica abbiamo la partita Figline-Anghiari. Quindi insomma un incontro molto importante. Ora mi gira intorno, va bene. Parliamo anche della promozione dove continua il solo da Sansovino che ha tre vittorie consecutive, nove punti. La scuola però di Gennaioli ha un punto in meno per la rivolità amministrativa e forse tre punti in meno perché la prima partita di campionato ha schierato un giocatore squalificato. Quindi la scuola di Sansovino che ha iniziato alla grande con grande sorpresa si trova in testa con otto punti ma vedrà forse decurtarsi tre punti per questa squalifica. Mentre in prima categoria continua il grandissimo campionato del Montevacchi che fa d'altalena invece al bruttissimo visto campionato del San Giovanni eccellenza che è penultimo in classifica. Ora saluto il titolare della rete, non ce la fare, va bene. Alla prossima settimana e speriamo che l'Arezzo riesca a ingranare. Buongiorno.